...di pari, tanto può fare la politica in questo senso, a partire da garantire le strutture scolari... Presidente, la Meloni vedrà queste immagini oggi, molto permalosa di solito. Eh, speriamo che la prenda bene. Come ha visto quindi, solamente in un atto grave, questa presenza dei commissari? Eh, sinceramente, mi sembra tutta una cosa senza fondamento, nel senso che c'è stata da parte della magistratura l'individuazione di alcune presenze di personalità criminali dentro un'azienda municipalizzata. Una cosa che credo succeda in tutte le città italiane e anche quelle del nord. Dopodiché la magistratura è intervenuta, ha chiarito che la giunta comunale non ha nulla a che vedere con questi eventi. E quindi, per il ministro dell'interno, ricevere i parlamentari del centrodestra in piena campagna elettorale, promettendo di intervenire con le misure di prevenzione sui comuni che possano arrivare allo scioglimento dell'amministrazione comunale, è un atto, direi, inqualificabile, che spero il Presidente del Consiglio sappia affermare, perché sarebbe un autogol. Nessuno mai aveva messo in piazza tanta gente quanto questo gravissimo errore del centrodestra. Non se l'aspettava da Melchiore e da Sisto, vero o no? No, io pensavo fossero persone diverse, sinceramente. Grazie. 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 Grazie.